Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti a quest'ultima giornata di Oltre Economia Festival 2021. Siamo qui con i nostri ospiti Niccolò Bertuzzi e Duccio Canestrini e affronteremo una questione molto interessante che ha tenuto banco ultimamente. Questo dibattito ha come titolo stato d'eccezione permanente ed è quello in cui ci siamo trovati a vivere e probabilmente ancora ci troveremo a vivere per un buon periodo della nostra vita. I mesi che abbiamo trascorso ultimamente hanno avuto una narrazione serrata, una narrazione particolare, una narrazione di cui tutti noi siamo stati destinatari. Sarebbe molto interessante all'interno di questo nostro incontro riuscire a trovare una risposta o quantomeno tentare di trovare una risposta a due domande fondamentali che sono qual è stato il ruolo dell'informazione di massa nel corso della pandemia da Covid-19 e che cosa ne è nato, quali sono i fenomeni sociali che sono scaturiti dalla tipologia di informazione e soprattutto dalla tipologia di utilizzo dell'informazione di massa nel corso di questi ultimi mesi. Come detto ne parliamo con i nostri ospiti, Nicolo Bertuzzi, ricercatore di sociologia dell'Università di Trento e con il nostro secondo ospite, Duccio Canestrini, che si definisce antropologo pop con un piede all'università e un piede sempre in cammino. Lascio immediatamente la parola al primo ospite, Nicolò, prego.